È una legge di 150 articoli, particolarmente impegnativo quindi l'esame del testo e dopo aver fatto fare gli interventi generali per i quali vi è un limite contingentato per ciascun gruppo politico, passeremo all'esame articolo per articolo con gli emendamenti e i sub-emendamenti. Provedete l'esame finale quando? Io ritengo che ragionevolmente nell'arco di tre giorni possiamo arrivare ad averla approvata. Però è difficilissimo fare previsioni perché indubbiamente quando si va su sedute notturne, quando si crea una situazione di voto che può prestarsi a qualsiasi intoppo in ogni momento è imprevedibile. Per questo noi siamo a mercoledì, abbiamo deciso di tenere in preallerta tutti i consiglieri regionali fino a domenica. Sono stato estremamente garante, ho voluto che quando hanno portato le firme fossero ricevute e lo sarò anche in futuro. Quindi io dopo l'approvazione della legge li incontrerò. Peraltro molta delle funzioni di verifica se la legge è in grado o meno di modificare il referendum spettano al Collegio dei Garanti, che è la Corte Costituzionale del Consiglio regionale, che abbiamo eletto l'altra settimana. Di conseguenza tutto entrerà rapidamente in funzione. Quello che io auspico è però, perché nella democrazia si può dissentire ma non si può ostacolare, io auspico di arrivare con la dovuta serenità e celerità all'approvazione della legge regionale sulla sanità in Toscana. Grazie.